Come è una macchina nuova? Più per una questione di... avendo la possibilità di poter provare macchine diverse mi piace ogni anno cambiare anche per fare poi un confronto, un paragone rispetto alle macchine che ho guidate l'anno precedente. Quindi ho accettato al volo la proposta di guidare la C4 e l'altro ieri abbiamo preso la macchina in mano, una macchina che ha dei lati positivi rispetto alla Ford che ho guidato l'anno scorso, altri meno positivi. E nell'insieme è difficile dire quale delle due possa essere la migliore, come dico sempre aspettiamo la prima prova e alla fine della prima prova avremo le idee un attimino più chiare.